Cittadino onorario dal 1924, ora Benito Mussolini dopo 98 anni non è più inserito nell'albo dei cittadini illustri di Carmignano di Brenta. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato la mozione di revoca della cittadinanza onoraria al Duce, un fatto che risale a quasi un secolo fa, quando in pieno regime fascista Carmignano, così come altri comuni italiani, decise di conferire a Benito Mussolini il riconoscimento. A causa di un cavillo burocratico che impedisce la cancellazione delle onereficenze in caso di morte dell'insignito, era necessario il passaggio tecnico in Consiglio Comunale. La mozione di revoca della cittadinanza al Duce è stata approvata da 10 consiglieri.